Sono 350.948 le persone che si sono prenotate per essere vaccinate e 279.061 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose su 1.200.000 marchigiani da vaccinare. Così scrive in un post su Facebook l'assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini. La platea degli over 80 che si erano prenotati nei punti vaccinali ha proseguito l'assessore, stanno tagliando questo ambito traguardo tra le prime regioni in Italia. Martedì, ricorda infatti Saltamartini, vi era stata la telefonata del commissario figliuolo al presidente della Giunta a Quaroli. In questa settimana, continua, dovremo chiudere la vaccinazione di questo target a livello domiciliare, ne mancano 3.000 circa. Lunedì 19 ha poi fatto sapere Saltamartini, si apre lo slot delle poste per la prenotazione e dopo qualche giorno con la vaccinazione, per i familiari o caregiver delle persone disabili. Sono 99.000, ma nel frattempo 1.600 hanno ricevuto il vaccino in vari ospedali allorquando hanno accompagnato i loro familiari o assistiti. Anche la categoria dei disabili ha proseguito l'assessore, marcia speditamente. Sono 140.000 e il piano prevede un'accelerazione per chiudere entro la fine del mese. La vaccinazione della categoria 60-70, composta da circa 200.000 persone, ha poi fatto sapere Saltamartini, verrà vaccinata all'inizio di maggio. I seri di aprile, circa 210.000, non coprono le fasce di età già citate. È per questo che lo slot già pronto a cura di poste italiane partirà in prossimità dell'effettiva vaccinazione. I rifornimenti, ha spiegato l'assessore, per il momento sono regolari, anche se il piano degli arrivi per maggio e giugno ancora non è stato comunicato. Si dovrebbe trattare di un rifornimento massiccio di 600-700.000 dosi, ha concluso Saltamartini.